Come diventare il nuovo signore d'Inghilterra se nessuno vuole darti le chiavi? Semplice. Con la reputazione. La reputazione che farebbe di lui, di lei, o anche di lui. Un mito. Innanzitutto, devi imparare le basi. Prima, vestiti per fare colpo. E poi, entra in scena. Pensano che siamo dei barbari. E tu, non devi deluderli. E dopo tutto questo, si saccheggia naturalmente. Non prendere cose a caso. Prendi ciò a cui tengono di più. Ovviamente, pensano che li uccideremo tutti. Ma assicurati che qualcuno... Lui, in questo caso... Vada a dire a chiunque che il diavolo adesso è a casa sua! Ed è così che ti fai strada nella storia. E ti guadagni un posto nel Valhalla. Gioca sulla nuova Xbox.